Il modello e gli allestimenti dell'auto del Presidente degli Stati Uniti cambiano periodicamente, ma i vari soprannomi restano gli stessi. La Bestia, Cadillac One, First Carreste e Gicose. Ecco le auto blu presidenziale USA, la prima auto presidenziale della storia. La Bestia attualmente in uso dal Presidente degli Stati Uniti è una Cadillac in servizio dal 24 settembre 2018, unica nel suo genere. È solo il più recente tassello di una storia che risale all'inizio del XX secolo. È infatti da allora che tutti i Presidenti USA usano un'auto dedicata. La prima è stata quella del Presidente William McKinley, che il 13 luglio 1901 percorse un breve tratto su una vettura a vapore Stanley Motor Carriage Company. Prima della diffusione delle automobili i servizi segreti seguivano a piedi la carrozza presidenziale, poi dal 1907 iniziarono anche. E se a usare una vettura a vapore White Motor Company per seguire Theodore Roosevelt? Una curiosità, questo Presidente non amava l'auto in quanto, a parere suo, ne smenuiva l'immagine di rude cavaliere. La prima auto presidenziale, Basta Carrozze, fu il Presidente William Howard Taft a dare una svolta nella storia delle auto presidenziali americane. Egli fu infatti il primo, nel 1911, a trasformare le stalle della Casa Bianca in garage e metterci quattro auto, si trattava di due Pierce Arrow, un veicolo elettrico Baker Motor Vehicle 1 a vapore della White Motor Company. Una curiosità, Taft si entusiasmò per le auto a vapore quando scoprì che il ghetto al momento giusto lo oscurava dai curiosi. La prima bestia presidenziale, Franklin D. Roosevelt fu poi il primo Presidente USA ad acquistare quella che viene oggi considerata bestia, si trattava di una Sunshine Special, costruita sulle specifiche e dello United States Secret Service. Il telaio era quello della Lincoln K-Series, il passo di 4,10 metri, lo spazio sufficiente per 10 passeggeri, le porte posteriori, apribili controvento, le sospensioni rinforzate, due ruote di scorta sulle fiancate e predellini esterni. La vettura fu sottoposta a due serie di modifiche, 1941, tetto abbassato di 7,6 cm per estetica 1942, aggiunta corazzatura, vetri, antiproiettile spesse i 2,5 cm, camere d'aria antiforatura rivestite di metallo, ricetrasmittente, sirena, lampeggianti e il vano perimetra. Auto presidenziale USA, la prima Lincoln. Passano gli anni e durante la presidenza Truman, per supposti screzzi con la General Motors, si passa alla prima Lincoln, nello specifico, ne vennero prese in affitto 10, tutte Cosmopolitan, negli anni 50. Le vetture erano tutte nere e con padiglioni più alti per accogliere i cappelli alti, furono modificate dalla N.I.Motor Company per la carrozzeria e da Hesend e Eisenhardt per la sicurezza. 9 di esse erano chiuse e 1 era una cabrio blindata lunga 6,1 metri e larga 2. Nel 1954 Dwight D. Eisenhower fece aggiungere il famoso tetto in plexiglass bubble top, in uso fino al 1965. L'assassinio Kennedy e la X100. Fu il presidente John F. Kennedy a imporre dei cambiamenti nelle bestie, nel 1961 accettò una Lincoln Continental 1961 modificata, blu scuro, da quasi 200,000 dollari, oggi circa 1700,000, che venne chiamata X100 nel gergo del Secret Service. Si trattava della vettura più sofisticata mai prodotta fino ad allora, con climatizzatore potenziato, due radiotelefoni, un estintore, un kit di primo soccorso, oltre ai tre tetti asportabili e all'elevatore idraulico, queste ultime due erano caratteristiche studiate per rendere visibile il presidente, che al contempo diventava vulnerabile, come dimostrato dall'attentato Kennedy. Il suo assassino causò una repentina riprogettazione della X100, costata mezzo milione di dollari, la carrozzeria divenne nera e venne aggiunto un impianto di telecomunicazioni migliorato, un motore più potente e pneumatici antiforature di alluminio rivestiti in gomme. Non solo, il serbatoio era protetto da una matrice a schiuma porosa e i passeggeri viaggiavano al sicuro nella cellula abitacolo, con tetto in vetro antiproiettile curvo di spessore variabile, il più grande mai costruito. La X100 fu sporadicamente usata da Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, e Jimmy Carter, per poi essere ritirata dal servizio ai primi del 1977 ed essere messa in mostra presso l'Henry Ford Museum a Dearborn, Michigan. Le altre auto del presidente USA Le auto presidenziali successive furono una Cadillac del 1983, consegnata il 30 gennaio 1984, e una Lincoln Town Car data alla Casa Bianca nel 1989. Bill Clinton usò una Cadillac Fleetwood del 1993 come auto presidenziale, mentre George W. Bush, nel 2001, fu una Cadillac Deville, essa fu l'auto per cui venne coniato e mantenuto il termine La Bestia. In seguito, l'auto presidenziale USA dal 2009 al 2018 usata da Obama era una Cadillac che non si basava su nessun modello di produzione. Oggi il modello attuale è una Cadillac unica nel suo genere entrata in servizio il 24 settembre 2018 con il presidente Donald Trump.